il mio nome è gabry costa ragazzi ciao a tutti quanti sono il famoso youtuber sapete cosa si deve fare questa volta dobbiamo fare la settima fase del quarto atto facciamo le scazzottate nel bosco avete visto siamo entrati nel bosco ecco perché il livello si intitola così non vedo l'ora di fare tante belle scazzottate a questi nemici sfogare la mia rabbia quando ce ne sono troppi io mi nervosisco e impazzisco si fa una lunga scalata no 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 ma quanti nemici ci sono in questo livello ecco perché devo fare le scazzottate nel bosco ecco qui dobbiamo arrampicarci dobbiamo salire mi chiedo da che parte dovrei andare quale sarà la strada giusta scram quando premete due volte il tasto direzionale cominciate a correre per caricare fate una bella carica come in hot ogni volta che salgo ci sono ancora nemici da affrontare e non finiscono più no 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 i nemici appaiono ripetutamente alcuni con i vestiti e gli abiti diversi perché cambiano colore ma sono tutti uguali avete capito subito dopo ce ne sono altri uguali a quelli di prima non capisco perché il creatore ha dovuto farne uguali oh il livello è finito mettete un mi piace e iscrivetevi al canale ciao a tutti grazie